Per il progetto nazionale Talent Day, la FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, ha scelto Pesaro, grazie al grande lavoro di ConfCommercio Marche Nord, come prima tappa di questo tour nazionale. Finalmente delle politiche attive legate al mondo del lavoro, dove è possibile far incontrare domanda e offerta, quindi ragazzi incontreranno gli imprenditori e gli imprenditori riusciranno ad incontrare i ragazzi. Un'azione che si svolge sia a livello formativo che a livello occupazionale. Vi aspettiamo il 16 e il 31 marzo all'Istituto Alberghiero Santa Marta di Pesaro. Per informazioni e prenotazioni potete scrivere alla mail segreteriachiocciolasconpesaro.it o seguirci nelle nostre pagine Facebook e Instagram ConfCommercio Marche Nord.